Ne parliamo allora dunque. Michael da Pesaro ci scrive Vorrei chiedervi quanti di voi alla luce di quanto ha fatto vedere finora riscatterebbero Osvaldo o chi come me lo lascerebbe partire per investire i 18 milioni, cifra patuita per il suo riscatto, su un grande esterno come ad esempio Nani o Nani, ancora non ho capito come si legga. Colgo inoltre l'occasione per complimentarmi ancora una volta con il nostro Andrea Pirlo premiato lunedì nel pre-Juventus-Livorno come miglior giocatore del mese. Grazie Michael. Osvaldo Ne abbiamo parlato recentemente, allora il Southampton ha questa clausola diciamo per cui se la Juve vuole prendersi definitivamente Osvaldo deve dare intorno ai 19 milioni, qualcosina in più di quanto ha detto il nostro amico. Ho anche detto l'altra volta e lo ripeto senza problemi che Osvaldo ha lasciato un pessimo ricordo a Southampton perché ha litigato con tutto lo spogliatoio nonché con il tecnico e via dicendo per cui un suo rientro nella società inglese è assolutamente da evitare da ritenere quantomeno molto 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 improbabile. Io non credo che la Juve a questa cifra riscatterà Osvaldo si farà fare un notevole sconto, notevole vuol dire arrivare a 10, quello che diciamo anche meno la metà diciamo 9, 8, 9. Ecco diciamo la metà e a quel punto secondo me o lo danno a un'altra squadra perché il giocatore non è che sia pessimo, qui non ha legato molto però è un giocatore che può dire la sua oppure lo tengono come riserve dicendo guarda il titolare è lui e tu vieni al secondo posto perché per 9 milioni di euro Osvaldo è da prendere, per 19 sicuramente no. No, ok. Anche perché appunto prima che parlavi dei soldatini, Osvaldo qualcuno sta cominciando a dire ma non è che la Juventus non sia adatta ad Osvaldo, Osvaldo non sia adatta alla Juventus proprio perché troppo inquadrato non riesce a dare il meglio di sé. Cioè sicuramente il fatto di presentarsi come si è presentato, che sembrava Johnny Depp con bombette e roba del genere, cioè la Juve non ha detto niente però conoscendo l'ambiente non è che hanno fatto i salti di gioia. No ma infatti a parte il gesto di lanciare la giacca l'altra volta che insomma io non lo vedo così grave sinceramente però l'ha fatto ma detto questo rispetto a come si è sempre comportato Pablo Daniello Osvaldo qui sta rigando dritto. Qui è perfetto, perfetto. Però che questo sia, no? Non lo so, vedremo comunque. Secondo me non è neanche Conte convintissimo di portarsi definitivamente qui a Osvaldo. Ok?